Poliedrico, geniale, multidisciplinare, caustico, ironico, malinconico, illuminante. Se qualcuno ha un aggettivo da aggiungere può farlo tranquillamente perché Ennio Flaiano era questo e molto altro. E infatti è sempre possibile trovare qualcosa di più, di diverso, di nuovo, sull'autore, drammaturgo, giornalista e così via. Dalla nascita dell'Associazione dei Premi intitolati a Flaiano, ormai 50 anni fa, sono già 25 i convegni di studio dedicati alla comprensione e alla valorizzazione dell'opera di questo grande abruzzese. Di questi, 24 sono stati realizzati sotto la presidenza di Edoardo Tiboni. Ora, sotto la presidenza della figlia Carla, ecco il 25esimo convegno internazionale, giovedì 20 e venerdì 21 aprile, il titolo I due volti di Flaiano, due libri, due film. Appuntamento alla Media Museum di Pescara. All'evento, Reteotto dedicherà anche la serata di giovedì alle 22.30 per una puntata del programma I fatti e le opinioni della direttore Carmine Perantuono. Flaiano è sicuramente un pozzo senza fine, dove si può attingere sempre e non sono mai sufficienti i convegni per conoscerlo. Questo convegno ci tenevamo in particolar modo a realizzarlo perché è un convegno un po' particolare, diciamo, che vede insieme la modalità tipica dei convegni, ma anche l'inserimento di due libri molto importanti che sono stati scritti quest'anno da Minore Panza e da Lucilla Sergiacomo e poi di due film. Il primo è il documentario, il lungometraggio di Andrea Anderman che Anderman realizzò poco più che ventenne e all'epoca aiuto regista di Monicelli con Flaiano che è stato per la RAI ridotto ad una puntata e mezzo, quindi le cinque puntate del documentario sono diventate un'ora e mezza, di un lungometraggio di un'ora e mezza. Andrea Anderman sarà qui con noi ed è secondo me un ulteriore arricchimento di questo lavoro molto importante che Flaiano considerava molto importante perché fu fatto in una nazione che aveva bisogno di conoscere il cinema ma aveva bisogno anche di questo tipo di lavoro per potersi far conoscere perché comunque era un territorio enorme dove c'erano moltissimi migranti, soprattutto italiani. Ci saranno molti studiosi di Flaiano, i massimi studiosi di Flaiano, ne cito due, il professor Ruozzi e la professoressa Longoni della Università di Pavia ha dedicato la propria vita allo studio dell'opera di Flaiano.